salve carissimi amici tuttubi sono francesco bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla quest'oggi parliamo di relazioni pericolose cover eroi batman di land dog cover villain joker xabaras se vi posso dare un consiglio visto i toni visto la storia che sta scritta questa è la copertina più giusta quindi terrò in mano questo volume qui nel corso dell'album nel retro abbiamo ovviamente xabaras e joker su sfondo verde mentre qui avevamo batman ed ilan su sfondo giallo il primo numero che darà il via questo maxi a queste maxi se a questi crossover che saranno serie crossover a quanto pare e che per l'appunto vedranno protagonisti gli eroi della sergio bonelli editore e della dc comics il volume è scritto da questo qui nello specifico da roberto orecchioni i disegni sono di walter del leder verter del ledera per i colori di cavenago o almeno qui dovrebbe essere così se non inteso male qui abbiamo una paginetta che ci parla un attimino delle delle similitudini delle differenze tra batman ed ilan dog articolo molto carino di roberto orecchioni che fa un buon punto su questa situazione qui e poi comincia subito il fumetto visivamente parlando vista anche la colorazione mio primo pensiero è stato che tutto l'album fosse disegnato da gg cavenago e invece ben presto visto che non era così effettivamente lo stile visivo del disegno è differente ma la colorazione è quella di cavenago ed è abbastanza identificabile proprio riconoscibilissima ma proprio la sua firma proprio il colore di che cosa ci parla questa storia di una ventina di pagine quindi quanto uno spillato americano è presto detto vuole essere una storia che fa da ponte da prologo alla futura miniserie tra per l'appunto batman e di lan dog mostrandoci come in realtà le strade dei nostri eroi dei nostri antagonisti si siano già intrecciate per alcuni motivi in passato in eventi che magari conosciamo magari no quindi è una sorta di retcon una riscrittura di alcuni passaggi della vita editoriale della storia di lan dog però fatta in maniera abbastanza sapiente e abbastanza buona è una storia che ho apprezzato riesce a prendere secondo me bene i personaggi di dylan e di xabras mi sembra abbastanza scontato considerando che e recchioni sta curando di lan dog ma qui fa un buon lavoro con sicuramente xabras riesce a prendere anche qualcosa di buono da i personaggi del mondo batmaniano anche se mi hanno convinto abbastanza ma non al 100% ma voglio per l'appunto vedere come la serie andrà avanti non volendo fare i spoiler non posso dire altro parliamo veramente di 20 pagine che corrono molto in fretta è una storia che di per lì non ho ben capito quando fosse ambientata ma andando avanti l'ho capito e mi son detto no non è possibile che ti che hai fatto sta cosa qui però mi ha gasato tantissimo sono quindi molto entusiasta e convinto di questa serie che da questa serie possa nascere qualcosa di di intrattenimento interessante e buono non sarà una storia filosofica incredibile non sarà un must have però qualcosa di buono ce l'ho notato mi è piaciuto e non vedo ora che esca il proseguo perché per l'appunto la rischiettura un pochettino c'è però effettivamente tutto torna e tutto suona piuttosto bene in chiusura all'albo ci sono un po' di schizzi un po' di immagini di dell'edera e di gigi di cavenago corredato da alcuni editoriali in cui roberto orecchioni rifà un pochettino il punto su alcuni passaggi della storia dando una spiegazione del perché sono state fatte certe determinate scelte la cosa mi è piaciuta non tanto per le scelte in sé quanto perché si è voluta proprio dare una forza alle scelte fatte e quindi dare una giustificazione al perché si è scelta una cosa piuttosto che un'altra mostrandoci quindi che si sono fatti diversi ragionamenti e non si è scelta la strada più semplice e immediata ma la scelta che poteva essere più interessante e quindi questo mi fa ancora più che ben sperare sul proseguo vi consiglio la lettura di questo volume se siete fan di entrambi i personaggi potrebbe venire fuori qualcosa di interessante e quindi dare un'occhiata al prologo può essere una buona idea anche per farsi un'idea se il proseguo potrebbe interessare la cosa che mi ha un pochettino fatto storcere il naso il fatto che effettivamente ci troviamo davanti a 20 pagine a colore al prezzo di copertina di 3 euro e 50 non lo so un bonelli di 96 pagine costerebbe 4 euro al momento sarebbe in bianco e nero però effettivamente ci troviamo davanti a 20 pagine a colori e anche l'impostazione della tavola mi fa pensare che molto probabilmente un formato spillato il tutto avrebbe reso decisamente meglio quindi l'intenzione qual è quella di fare bonelli di così o fare spillati o inizialmente era quello di fare spillati e poi hanno pensato forse sai fare una roba del genere magari potrebbe non incontrare i gusti dei nostri lettori facciamo il classico bonellide non ne ho la pupa l'idea anche perché in realtà non mi sembra ci sia troppo in realtà c'è abbastanza spazio sui margini tanto da farmi pensare ancora di più che il formato era pensato per uno spillato e non per un bonellide però diamo tempo al tempo vedremo cosa ne salterà fuori secondo me in un formato più grande americano alcune tavole meritano molto di più che cose piccole quindi è anche un pochettino spettacolare anche perché la gabbia non è proprio del tutto rispettata quindi la sensazione che si volesse fare proprio un simile americano c'è ed è molto forte però non è penalizzante così tanto da dire non si riesce a leggere è tutto bello leggibile bello chiaro però sai più grande è più più leggibile oltretutto 3 euro e 50 per uno spillato sarebbe da 20 pagine non sarebbe neanche del tutto sbagliato quindi come prezzo quindi non lo so perché sta fatta questa scelta del brossuratino ripeto ovviamente senza fare spoiler il focus è molto sugli antagonisti quindi la cover con joker e xabras è quasi più centrale di quella di batman e dylan per quanto compaiano un minimo anche i nostri eroi e quindi a voi la scelta qui sotto uno spazio di commenti aspetto vostre opinioni avete letto questo capitolo 0 vi è piaciuto o non vi è piaciuto siete d'accordo o non siete d'accordo come al solito qui sotto dialogatele e ditemi nel caso in cui l'abbiate comprato quale cover avete preso avete preso la cover a o la cover b villain o eroi qui da francesco e fan con papà alle mie spalle dalla soffitta di camera mio non più soffitta è tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao